Ci siamo eh, ci siamo! È una domanda che mi avete fatto praticamente in quasi tutti i video di tv che ho realizzato durante gli ultimi mesi. Toto, ma che differenza c'è tra QLED e Nanocell? Quale mi consigli? Beh, ho risposto a tutte le vostre domande nei commenti perché ricordatevi che rispondo sempre a tutti qui su YouTube. Ma ho deciso di realizzare questo video perché visto che l'argomento è caldo e visto che il 2022 segnerà l'arrivo di tante nuove tecnologie è meglio avere tanti video dove si vanno ad analizzare tutte le piccole differenze tra l'una e l'altra. Quindi ci siamo, differenze tra QLED e Nanocell con l'insider ovvero l'ULED di iSense. Ma prima di vedere e scoprire queste differenze vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. È l'unico vero modo che avete per supportarvi in modo che io possa portarvi sempre maggiori approfondimenti e video di migliore qualità. Bene, prima di addentrarci su quello che sono le due tecnologie andiamo a capire com'è fatto un pannello della TV. Lasciamo in questo video completamente da parte gli OLED. Ho già fatto dei video dedicati agli OLED per cui non li tratterò perché si tratta di una tecnologia completamente diversa. Tuttavia fatemi sapere se volete un approfondimento proprio su quella che è la tecnologia OLED qui sotto nei commenti. Bene, come è fatto un pannello tradizionale? Beh, ci sono vari strati che possiamo sintetizzare in tre macro strati. Il primo, quello che noi praticamente non vediamo ma che è una componente vitale per la buona resa dell'immagine, è quello destinato alla retroilluminazione. Immaginate tante piccole lucette con tecnologia LED che si illuminano e adattano alla loro luminosità in modo da poi far rappresentare le scene di un filmato, di una serie TV, anche di questo video se lo state guardando dal vostro televisore. Dopodiché c'è un filtro. Questo perché? Perché se noi accendiamo la luce questa si diffonde, lo vediamo con le lampadine. Se quando accendiamo la lampadina la sua luce si diffonde su tutto l'ambiente, ma il risultato è ottimo per i nostri occhi perché riusciamo a vedere tutto l'ambiente, ma in un televisore non è desiderato. Quindi abbiamo bisogno di un filtro che riesca a direzionare la luce verso l'ultimo strato, ovvero il pannello fatto da cristalli liquidi che ricevono la luce emessa dai LED direzionata dal filtro e per poi fare in modo di avere un'immagine finale che possa essere quello che voi state guardando. Questo è come sono fatti tutti i televisori con tecnologia LED, quindi con retroilluminazione, che poi ci possono essere vari tipi di retroilluminazione, ma ho già fatto un video sull'argomento. La luce emessa è molto importante perché dalla sua intensità poi va a dipendere una cosa a cui noi siamo molto affezionati, ovvero la fedeltà cromatica e la stessa intensità del colore. Quindi migliore il controllo che abbiamo su questa luce, migliore poi sarà la qualità finale. Bene, andiamo a fare un passo mandio e vediamo com'è fatta la tecnologia QLED, che è stata inventata diciamo da Samsung. Cosa sono i QLED? Sono dei punti quantici e cosa sono questi punti quantici? Sono dei materiali semiconduttori che hanno una grandezza compresa tra un nanometro e tre nanometri, a seconda dello spettro di colori che si occupano appunto di direzionare al meglio la luce verso il pannello con i cristalli liquidi. I punti quantici sono proprio quindi dei filtri con grandezze leggermente diverse tra loro. L'occhio umano non è neanche in grado di apprezzare la differenza perché va da un nanometro a tre nanometri. Però insomma c'è questo strato di punti quantici che si occupa appunto di direzionare la luce verso lo schermo che poi darà il risultato finale. E cosa sono invece i nanocell? La definizione di nanocell è stata utilizzata da LG, che è l'azienda che la utilizza più tra tutte le altre. Ma cosa sono esattamente questi nanocell? Beh, se andiamo a cercare direttamente lo sito di LG otteniamo questa definizione. I nanocell, o meglio i pannelli con tecnologia nanocell, sono dei pannelli che integrano tra lo stato di retroilluminazione e lo strato di cristalli liquidi un filtro fatto di nanocellule dalla grandezza di un nanometro. Ma non vi fa ricordare qualcosa che abbiamo già visto? Beh, sì, di fatto la tecnologia nanocell e la tecnologia QLED sono praticamente la stessa cosa. È vero che dal punto di vista progettuale e ingegneristico potrebbero esserci piccole differenze nelle microdimensioni di questi piccoli punti il cui compito è quello di direzionare e filtrare la luce emessa dalla retroilluminazione. Tuttavia, nell'utilizzo reale poi le differenze non sono così accentuate. Possiamo sintetizzarle, come sempre vi ho detto nei commenti a cui vi ho risposto, in una maniera molto semplice ovvero con le caratteristiche intrinseche delle due case. Mentre le G tende ad avere una riproduzione un po' più naturale con dei colori che io definisco un po' più belli da vedere, più naturali e un po' più soft, Samsung accentua leggermente di più i colori dei QLED che risultano un po' più saturi. Tuttavia, non si tratta di macro differenze o differenze ultra tangibili e che differenziano di netto le due linee di prodotto. Sono differenze che tramite una calibrazione, tramite una regolazione di saturazione, contrasto e luminosità possono essere praticamente uguagliate e di fatto i due pannelli danno lo stesso risultato. Perché si usano le tecnologie QLED e nanocell sui televisori e perché bisogna per forza dare un nome diverso? Semplicemente una strategia attuata dai produttori per affermare la potenza del loro brand per rendere di fatto il prodotto riconoscibile all'utenza. Se io vi dico nanocell sapete benissimo che nanocell è di fatto LG, mentre se vi dico QLED sapete benissimo che il QLED è utilizzato da Samsung. E sotto questo punto di vista le due aziende hanno fatto bene a dare due nomi diversi. Due nomi diversi per una tecnologia che però appunto funziona allo stesso modo. Qual è il terzo incomodo? Isense che ha chiamato la tecnologia QLED come ULED, ma non si tratta di una nuova tecnologia. Di fatto i pannelli ULED come l'U88GQ che abbiamo provato lo scorso anno sono dei pannelli QLED che utilizzano lo stesso filtro con punti quantici dei televisori Samsung e così come tantissimi altri. Da qui possiamo citare TCL, Sharp e tanti tanti altri. Ora direte voi ma QLED quindi è una tecnologia di pannello? No, QLED va ad indicare la tipologia del pannello che utilizza questo filtro di punti quantici o di nanocellule come detto da LG. In realtà questo filtro può essere poi applicato a diverse tecnologie di retroilluminazione. Abbiamo la retroilluminazione Edge LED, abbiamo la retroilluminazione FALD, ovvero Full Array Local Dimming che va ad indicare quella retroilluminazione che integra diverse zone di LED sparse su tutta la superficie del televisore. Abbiamo poi, come abbiamo visto con Samsung QN95A, la retroilluminazione Mini LED che poi Samsung ha deciso di chiamare Neo QLED che di fatto è un QLED ma con la retroilluminazione fatta di LED decisamente più piccoli che quindi aumentano e migliorano la gestione dei colori. Allo stesso modo LG ha per esempio presentato sempre con tecnologie di retroilluminazione Mini LED la serie QNED che spero di provare in futuro. Questo è tutto quello che bisogna sapere tra tecnologie QLED e nanocell. C'è una migliore? Beh, dipende molto dalle offerte, dipende molto dal modello, dipende moltissimo anche dalla vostra personale preferenza. Anche perché bisogna sempre considerare che Samsung non ha la compatibilità con i Dolby Vision, mentre LG sì. Quindi a seconda dei contenuti che hai visualizzato potreste propendere per l'uno o l'altro modello. Ma se volete approfondire vi lascio nelle schede un link dedicato proprio a questo argomento. Per questo video è davvero tutto. In descrizione vi lascio alcuni dei migliori modelli QLED e nanocell e spero di avervi chiarito di idee. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!